Nel decreto semplificazioni all'articolo 38 c'è il divieto per i sindaci di emettere ordinanze contro eventualmente l'installazione di antenne e ripetitori per questo 5G, la nuova frontiera del digitale. Forse il governo l'ha ritenuta opera di interesse nazionale, di strategie nazionali. Non mi piace però il metodo, oltre che il contenuto, questo di considerare i sindaci degli ostacoli. Anche nella fase lockdown togli il potere ordinanza, poi lo rimetti nell'articolo 18 del decreto semplificazioni, però lo togli per una materia specifica come il 5G. Io credo che non va bene perché i sindaci sono quelli che tutelano il proprio territorio, lo fanno anche da principali responsabili della salute dei cittadini e della propria comunità. Bisogna lavorare d'intesa con i sindaci, non considerarli un ostacolo. Poi la materia del 5G merita secondo me un approfondimento corretto dal punto di vista ambientale e sanitario. Non mi piacciono i caccia alle streghe, c'è quelli che pensano a prescindere che sia qualcosa di pericoloso, altrimenti il progresso significherebbe di per sé pericolo, ma non mi fido nemmeno di quelli che dicono che il 5G è sicuramente un qualcosa che non fa male e che è tutto a posto. Bisogna sempre stare attenti, controllare, investigare, fare accertamenti e noi a Napoli il progresso non lo fermeremo, ma non mi piace l'idea che ci sia un governo che strometta i sindaci dalla potestà di tutelare anche la salute dei propri concittadini, oltre che il progresso e lo sviluppo.